Tu che hai seguitato nel tavolo del Tangeo, risvegli in noi la passione per la vita, senza lasciarci incontrare per il Dio, e non che subito. Tu che hai accompagnato il tuo figlio Gesù, insieme al tuo sposo Giuseppe, nella crescita di vita, di sapienza e di grazia. Sostieni le mani e i papà, la loro missione per la vita. Costituisci i papini, i ragazzi e i giovani, come vanno più cose intorno, e l'uomo è curato, e confessarlo a te in ogni circostanza della vita. Amma Maria, te lo grazie al Signore con te. Tu sei l'Ereo che ha parlato, e l'Ereo che non ti deve più essere, Gesù. Santa Maria, la madre di Dio, prego e la madre di Cattolio, adesso è l'ora della nostra morte, amico. Tu che sei mamma rossa, aiuta la nostra comunità a diventare sempre più chiesa del risorto, attraverso la testimonianza e l'operosità dei miei membri, ispirando sentimenti di elevezza e di carità. Sostieni gli ammalati, gli anziani e i sotteregni, nella loro partecipazione al servizio del tuo figlio, e assisti coloro che si prendono pure, una conoscenza del tuo figlio, posta la ricamma e la humanità. Amma Maria, e ringrazio il Signore con te, sei l'Ereo che ha parlato, e l'Ereo che ha parlato, e l'Ereo che ha parlato, e l'Ereo che ha parlato, stai, da un angelo, accogliendo dentro il tuo cuore la misericordia di Dio. Liberaci dal Ligia, dalla Gerustia, dalla ricistenza, dalla Cilia, e da tutti i Vizi. Fate nella tua fiducia giudicina e ci prendiamo, nella formazione delle nuove generazioni. Amma Maria e ringrazio il Signore con te. Sei l'Ereo che ha provato, Santa Maria, madre di Dio, prego per noi e per noi. Adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Rendici conti nella fede, santi nella speranza, operosi nella carità, che nel sferante della preghiera, coraggiosi nella comunità, o che sei la nostra compagna e il nostro preliminario, con la speranza che ci accoglierai nella Gerusalemme Celeste, insieme al Consiglio di Gesù, e viveremo in un'unità di un Spirito Santo, al cuore di Dio Papa. Amen. Santa Maria, madre di Dio, prego per noi, la dolcezza e speranza della nostra Stata. A te ricordiamo adesso i finti devoli. Adesso chiediamo tutti i finti devoli. A te ricordiamo adesso i finti devoli. Adesso chiediamo tutti i finti devoli. E il gruppo bell'evole, per se non lo so, o che metto, o che la dolcezza e la Maria. Grazie. 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 Grazie.